E buongiorno amici, buongiorno a tutti, vi auguro una buona domenica, una felice domenica, una domenica dal sapore estiva, molto bella. Volevo fare un video sociale oggi riguardo ciò di cui discuto pure con amici, il passare del tempo, il cosiddetto invecchiamento, fra parentesi, ma com'è bella questa età se si riesce a vivere. E quindi volevo fare queste quattro chiacchiere con voi. C'è un'opera di uno psicanalista americano che si chiama James Hillman dal titolo La forza del carattere, in cui c'è una frase, una frase sull'invecchiamento che dice Così come il carattere guida l'invecchiamento, l'invecchiamento guida il carattere. Cioè, egli evidenzia come proprio nella cosiddetta anzianità, cioè dopo i 70 anni, ma dopo i 70 anni, si raggiunge la massima espressione del proprio carattere. Un carattere che finalmente tende ad esprimersi senza i condizionamenti che spesso abbiamo in gioventù. È vero che inevitabilmente diventiamo fisicamente più vulnerabili alle malattie, un po' si abbassa la vista, l'udito. Ma sulla bilancia generale, sull'altro lato della bilancia, c'è altro che ci porta a poter vivere bene i nostri 100 anni. Non per niente la natura ci insegna che è proprio nel tramonto che ci sono i colori più belli, se si apprezzano. E il voler restare giovani, però non a livello di chirurgia estetica, a tutti i costi, quello è il peggio che possa esistere. È vero che ci si deve voler bene, magari si fa il ritocchino, prendersi cura del nostro corpo, sì, quello sì. Ma senza esagerare, perché poi si diventa, ecco, delle marionette. Il segreto per vivere bene dopo i 70 anni è quello di cogliere la vita così come è, cioè ogni momento, godendo della primavera, dell'inverno, dell'autunno, dell'estate, ogni singolo momento. Perché ogni stagione ha le sue caratteristiche, i suoi pregi, i suoi difetti, i suoi frutti, i suoi sapori. Dopo i 70 anni non abbiamo obblighi, sicuramente assidui di lavoro, possiamo scegliere, diventiamo più produttivi perché facciamo con impegno quello che più ci piace. Io non ho quell'età, per carità, ho superato, diciamo, i 60 anni, ma ad esempio questo impegno sul canale YouTube è qualcosa che non è per me vincolante, ma lo faccio con tanto amore, tanto affetto, tanto impegno. C'è chi aiuta, ad esempio, nell'impresa di famiglia, chi fa del volontariato, chi si dedica ai nipoti, chi si inventa una propria attività. Quindi essere giovanili non è avere le caratteristiche fisiche dei giovani. Perché il cervello è l'unico organo con i suoi migliaia e milioni di neurotrasmettitori che non si ammala, non invecchia se produce energia, se produce idee. Ricordo una famosa intervista al grande Edoardo De Filippo che era dopo i 90 anni e raccontava la sua emozione nell'andare ancora in scena e nel ricordare perfettamente tutti i suoi personaggi, perché la mente era allenata. Quindi esercitare il cervello, ecco, non mettersi lì a non fare niente, leggere, scrivere, mantenersi impegnati nelle cose però che ci piacciono. Quindi alcune malattie degenerative come ad esempio Parkinson sono favorite da che cosa? Dall'immobilismo, dal non fare niente, dal non fare nulla. La cosa bella è soprattutto che qualunque cosa fai, qualunque cosa fai, non c'è, è stato imposto sempre meno di quello che pensano gli altri. Ed è una cosa fantastica. Ed è una cosa che noi ci possiamo concedere solo dopo una certa età. E diventi finalmente te stesso, quello che magari 20 anni prima, 30 anni prima non potevi perché c'erano dei compromessi da dover rispettare. Ricordiamoci sempre che noi siamo come una pianta, unica. Non è che noi siamo come quello, no. Noi siamo una pianta unica. Abbiamo all'interno un seme che ci fa fiorire continuamente a 50, 60, 70, 80 anni. Non cambia niente. Dobbiamo restare in ascolto, quindi niente rimpianti. Ecco, niente rimpianti, niente rancori, niente passato, perché il passato è passato. Lo dice la parola stessa, passato. Quindi lo sapete quant'è che ti accorgi di stare invecchiando di questa parola brutta? Quando non hai più entusiasmo. Quando fai sempre le stesse cose ripetitive giusto perché le devi fare. Invece fai cose nuove. Anche nel camminare, cambia la strada della tua passeggiata. Vedi particolari nuovi invece della solita. Vai, non so, fine settimana, il sabato sera o anche in settimana a frequentare amici, amiche, non so, c'è chi balla, chi fa altre cose. Sempre che ti piacciono. Le novità sono una eccezionale carica di vita. Qualsiasi novità, qualsiasi hobby coltivi, ma con la passione. Quindi approfittiamo della libertà che abbiamo dopo i 65 anni, i 70 anni. È qualcosa di eccezionale. Pensate che nell'antica Grecia erano i cosiddetti vecchi, insomma, coloro a cui affidare i destini, a cui si chiedeva, il consiglio dei saggi. Perché proprio nell'età si acquista la saggezza, si acquista la spontaneità, senza compromessi con gli altri. Se sapremo abbinare a ciò anche un'attenzione alla cura del corpo, perché comunque bisogna stare attenti alle normali terapie, alle normali funzioni, tipo il zucchero, il sale, l'obesità, ci sta. Bisogna stare attenti anche a quello. Standoci accorti, vivremo felici. Stando accorti e non farci del male da soli. Quindi, in sostanza, dopo i 65, 66, 67 anni che si va in pensione, impariamo ad escludere alcune futilità della nostra vita. Facciamo una sorta di lifting mentale. Facciamo una sorta di potatura dei problemi, come i contadini che tagliano i rami secchi. Così diventiamo semplici, essenziali, naturali. Diventiamo finalmente noi stessi. però attenzione al passato. Il passato è passato. Attenzione, il passato è passato. Non guardare mai indietro al passato. Alle vecchie foto sbiadite in bianco e nero. Nell'armadio non metterti a guardare i vestiti che indossavi anni fa. Compra nuovi vestiti, i colori che desideri. compra il nuovo. L'unica vita che hai a disposizione, non è quella che hai vissuto. È quella che hai adesso, 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 adesso. Siamo chiamati adesso a dare il meglio di noi. Liberando la mente dal passato. Il passato è passato. Perché il passato è spesso il nostro maggior nemico al quale noi rimaniamo ancorati. Quindi vecchio è solo chi si arrende. Noi non ci arrenderemo. Mai. D'altronde, il male di vivere colpisce ad ogni età. Quanti giovani sono affetti da cosiddetta depressione? Perché hanno perso il contatto con il sé, il bandolo del loro vivere quotidiano. Quindi, concludo dicendo che se noi restiamo in contatto con il nostro seme, anche dopo i 65-70 anni, siamo in grado di dare a noi, agli altri, e agli altri, il meglio di noi stessi. Quindi aboliamo quelle parole, come dico sempre, ormai, sono vecchio, purtroppo, ormai, lasciamo stare queste cose qua. E finalmente si aprirà di danza a noi un mondo nuovo. Senza compromessi cui facciamo davvero quello che vogliamo e quello che ci fa stare bene. È semplice. Molto più semplice fare che spiegarlo. Quindi cerchiamo di fare semplicemente la nostra semplicità. Grazie amici miei. Buona domenica ancora. Condividete un video con tutti i vostri amici. Un abbraccio a tutti quanti voi.